Insomma è stato intanto abbastanza faticoso perché devi sapere che io ho cominciato a scrivere il diario che avevo 18 anni, proprio quando sono entrato all'Accademia d'Arte Drammatica, infatti un mio amico sostiene che io ho scritto il diario sapendo già che un giorno sarebbe stato letto dai miei fan, dai miei ammiratori e ammiratrici, è stato faticoso perché ho cominciato a rivederlo da allora e quindi a rileggere tutti i diari a cominciare da quando avevo 18 anni fino ad oggi e naturalmente ho sottolineato mentre leggevo le parti che io consideravo interessanti per un eventuale libro da scrivere e questo è il lavoro che ho fatto che è durato tantissimo, è durato tre anni, quindi una gestazione piuttosto lunga ma insomma anche divertente, avevo una preparazione di tipo teatrale e quindi anche un certo tipo di livello intellettuale che mi permetteva di andare oltre a quello che era semplicemente il cinema, il cinema si può coniugare in varie forme naturalmente, io non ho mai guardato necessariamente al cinema commerciale perché mi interessa sempre volare un pochino alto e cercavo sempre di volare alto, indipendentemente poi dal successo o l'insuccesso di un film, questa è stata sempre una sorta di parabola che mi sono imposto e quindi se arrivava un copione come quello di Mauro Severino, vergogna schifosi, che era interessante perché contestava un certo tipo di società e io dicevo sì perché era il copione che mi piaceva, è chiaro che di copioni all'epoca poi con il successo, con l'andare del successo me ne sono arrivati tantissimi e non era facile tra l'altro delineare esattamente, dice questo sì, questo no.